Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e questo è il mio secondo video per documentare i risultati finali del corso Digital Storytelling per l'insegnamento. In questo video mi soffermerò sul percorso formativo che abbiamo compiuto con i colleghi e su quelli che sono stati i numeri di questa esperienza. Mi riferisco ovviamente al corso Digital Storytelling per l'insegnamento per le scuole del primo ciclo ottenuto per quest'anno scolastico 2016-2017 e parlerò di quello che secondo me è stato uno dei motivi che hanno garantito gli esiti positivi di questa esperienza, e cioè quelli che ho chiamato compiti reali, si va di bene compiti reali, non compiti di realtà, e poi della dinamica formativa, cioè del modo in cui è stata portata avanti l'esperienza di apprendimento, insegnamento di questo corso. In particolare mi soffermerò su quelli che sono stati i servizi, gli strumenti che sono stati messi al servizio dei colleghi per garantire, mi scuso per la sfilza di termini inglesi, per garantire scaffoldi, tutori, coaching, cioè per garantire un supporto costante e continuo che liquidasse e orientasse nella azione e nelle azioni che sono state portate avanti. Attività, compiti reali, questo è stato il fondamento su cui è stata costruita l'esperienza formativa del corso, che è durato nove settimane, una settimana è stata dedicata all'avvio, alla socializzazione, alla familiarizzazione con gli strumenti come Edmodo, per esempio, a disposizione del corso, e via dicendo. L'ultima settimana si sono un po' tirate le fila di tutto quanto è stato fatto, e il cuore quindi del corso sono state le sette settimane tra l'avvio e la conclusione, ciascuna delle quali è stata dedicata a un'azione. Ognuna di queste azioni era un compito reale. Ho usato l'espressione compiti reali e non compiti autentici o di realtà per indicare che non si trattava comunque di simulazioni, poiché questi compiti reali erano attività che i docenti hanno ideato, progettato e realizzato, non in un contesto di simulazione, ma nel contesto in cui gli insegnanti operano realmente, e cioè con le loro classi e nel corso delle loro normali attività didattica. Quindi ogni azione consisteva nell'utilizzare determinate tecnologie e strumenti digitali e web, e nel realizzare con questi strumenti dei percorsi, dei progetti, dei contenuti, che rientrassero ovviamente nell'ambito dello storytelling, e che venivano sviluppati nelle classi stesse. Addirittura, quasi sempre, anzi, con la collaborazione stessa dei ragazzi, secondo un approccio di tipo costruttivista. Bene, quindi per riprendere il discorso, attività di insegnamento e apprendimento sviluppate dagli insegnanti con i loro studenti nell'attività didattica quotidiana. Per questo erano compiti reali, per questo più che di un corso, si è trattato di entrare dal punto di vista proprio operativo nei processi didattici, di cui i colleghi erano protagonisti insieme ai loro studenti, per provare a modificarli, integrarli, migliorarli, con l'uso delle tecnologie e con il riferimento alla strategia comunicativa dello storytelling. Che tipo di dinamica hanno seguito queste azioni? Quindi dal punto di vista pratico-operativo, insomma, come ha funzionato il tutto. Bene, si tratta di compiti che venivano comunicati attraverso istruzioni. Queste istruzioni erano da me o scritte in formato testuale, o comunicate in formato video, o entrambe le cose, per essere il più chiari e precisi possibile. La realizzazione veniva eseguita dai docenti, utilizzando modalità di blended learning, cioè in presenza con le loro classi. Per esempio, si è trattato di realizzare un podcast, o un'immagine interattiva, o dei fumetti, o un e-book, o mappe con Google My Map, o dei video con la tecnica dello screencasting, o del video editing, o animazioni. Ebbene, tutti questi compiti erano reali, perché venivano svolti nella normale attività didattica dai docenti, e soprattutto venivano svolti in collaborazione con gli studenti. Ovviamente, durante la fase di realizzazione, veniva garantita a tutti i partecipanti l'assistenza costante, sia da parte mia, quindi in funzione di tutor, di mentor, eccetera, che da parte degli altri colleghi, e quindi in modalità collaborativa, per arrivare a un esito positivo. Il feedback per ciascuna attività che veniva poi illustrata dai corsisti nella piattaforma Edmodo, io davo un commento indicando punti di criticità, aspetti positivi, elementi che si potevano migliorare, e così via, e magari il collega provvedeva a effettuare delle modifiche, o magari era il collega stesso a rendersi conto che occorreva apportare delle migliorie. Inoltre, accanto a un commento testuale e puntuale su ciascun lavoro, sono stati circa 106 lavori consegnati, lavori o progetti, spesso io realizzavo un video mirato ad hoc, che mostrasse una buona pratica realizzata da uno dei corsisti, o che mostrasse quali erano stati i limiti di alcuni lavori più ricorrenti, chiedo scusa, i limiti più ricorrenti in tutti i lavori, e così via. Questo ha reso veramente efficace il lavoro e l'apprendimento, perché appunto non si trattava di simulazioni o di esercitazioni, ma si lavorava in presa diretta, cioè si lavorava contemporaneamente nel portare avanti le azioni del corso di formazione che coincidevano con attività didattiche realmente effettuate con le classi. È interessante anche esaminare i numeri del corso, spostiamoci qua alla webcam, ebbene, il corso è iniziato il 4 aprile ed è terminato il 6 giugno, gli iscritti erano 24 e hanno concluso in vendi. Diciamo che questo è un dato abbastanza positivo, certo l'ideale è sempre terminare tutti quanti insieme, però insomma spesso si assiste a corsi, anche in modalità in presenza, in cui circa metà dei corsisti termina il corso, quindi soltanto la metà, quindi diciamo un risultato abbastanza positivo, ma insomma l'ideale sarebbe il 24 su 24. La modalità è stata il blended learning, perché il primo incontro, l'ultimo incontro, o chiedo scusa, perché l'avvio e la chiusura di questo corso sono stati svolti in presenza, con attività in presenza di circa 7 ore. La piattaforma utilizzata è stata Edmodo, ma si è usata anche la mail, Padlet e tanti altri servizi di comunicazione. Le ore di vita online svolte dal docente e dagli studenti sono state 18, 18 ovviamente è una stima, in realtà sono state almeno il doppio, se non di più, basta che si vada a vedere i lavori portati avanti dai colleghi o i video che ho realizzato per capire quante ore si è lavorato, perché il lavoro, lo studio, l'applicazione, sono l'esercitazione, sono la base di qualsiasi artigianato didattico e digitale. Ho prodotto 6 ore e 40 minuti di video, sono divisi in più di 20 video, mi pare 23, 24, 25, contando anche questi forse si arriva a 26, 27, e i corsisti hanno prodotto 106, chiamiamoli lavori, intendendo con questo contenuti digitali oppure progetti veri e propri, quindi attività già più complesse, che prevedevano diversi contenuti e diversi servizi. Da questa tabella appaiono anche quelle che sono state le criticità, la fase aprile, maggio, giugno, è una fase piuttosto delicata dell'anno scolastico, e quindi gli impegni lavorativi sono veramente tanti. Nonostante questo, i colleghi hanno veramente lavorato moltissimo, però certo è meglio settembre-ottobre, oppure febbraio-marzo, come date di effettuazione del corso. Altro aspetto, quello che ho già accennato, che è riconoscere solo 18 ore ai colleghi, insomma, chiedo scusa, 25 ore ai colleghi, è veramente poco, solo i video che hanno dovuto guardare, compresi i webinar, sono quasi 7 ore, quindi insomma, andiamo ben al di là delle 25 ore. E, sempre parlando di riguardo ai numeri del corso, ho messo in risalto in questa slide, i video. Certamente nella modalità online, in cui occorre supplire ai limiti della comunicazione online rispetto a quella che è la maggior ricchezza e intensità della comunicazione in presenza, lo strumento del video è fondamentale. Però non di video generici e standard, ma di video mirati, di video costruiti e registrati ad hoc, si ha la necessità. E quindi il video è stata la forma di comunicazione più efficace che io ho utilizzato, secondo la mia opinione, in questo corso. Ho realizzato vari tipi di video, fondamentalmente video tutorial o guide, in cui si spiegava come utilizzare una determinata applicazione per poter svolgere, per esempio, una determinata azione, ma privilegiando l'aspetto didattico, cioè privilegiando, per esempio, domande del tipo quali caratteristiche presenta questa applicazione dal punto di vista dell'apprendimento, quindi dello studente, o dal punto di vista dell'insegnante. Può essermi utile nella didattica? In che modo la posso usare nell'attività didattica? E via dicendo. Quindi privilegiando questi aspetti, piuttosto che aspetti meramente tecnici. Inoltre, ho realizzato anche delle guide sullo storytelling, per esempio le variazioni narrative, gli intrecci, e così via. Poi ho usato molto il videomessaggio, e quindi videomessaggi di tutti i tipi, ne ho registrati circa 12, alcuni di carattere generale per illustrare il corso, altri che illustravano invece le consegne e fornivano una guida per le attività ai corsisti, altri che offrivano un feedback, una valutazione dei lavori svolti. E poi ci sono stati i webinar, qualche corsista che non ha potuto partecipare, ha però potuto vedere i webinar registrati su Edmodo, postati su Edmodo. Qui ci sono anche gli argomenti, nei webinar ho cercato di sviluppare maggiormente gli aspetti teorici dello storytelling e dell'utilizzo delle tecniche, degli strumenti digitali per lo storytelling. Qui sono riportati anche i link per poter vedere questi video. E in tutto fanno, come vedete, 25 video più i 3 che sto registrando adesso per documentare il corso, insomma, si arriva quasi alla trentina di video. Bene, questo è tutto per quanto riguarda il percorso e i numeri di questa esperienza. non mi resta che rinviare all'ultimo video in cui fornirò una panoramica completa dei materiali che ho predisposto per documentare il corso Digital Storytelling sull'insegnamento. Vi ringrazio e buona giornata. Grazie a tutti.